stiamo facendo il pack strap dello shuttle è sempre un momento da ricordare qui abbiamo il nostro shuttle che è collegato via rete al router e la musica dfm sul portatile che usiamo anche per salvarci un po di informazioni sull'installazione ed ecco il pack strap che sta lavorando sempre un momento importante emozionante grazie grazie